Da questa avventura mi aspetto di tornare a casa con un bagaglio molto pieno di novità, di conoscere molta gente nuova e vedo l'ora di iniziare e spero di essere la vincitrice. Sono molto carica, sono molto contenta della prova, la modella mia era molto giovane quindi comunque sono riuscita a fare una cosa semplice che sono le cose che ti faccio io e sono molto soddisfatta. La settimana è stata bella, ho collegato con tantissime persone, il gruppo era un po' difficile però con le poche persone che ho collegato sono andata molto bene, però mi porto a casa tanto da questa settimana perché ho parlato troppo di cose nuove, mi sento molto cresciuta e mi sento molto più sicura con me stessa. È un'esperienza che rifarei subito. Grazie. Grazie.